Questo è il treno espresso. Come si chiama questo treno? Trenitalia. Un treno del cazzo. Dove stai andando? Io a Bologna. Siamo ridotti a dormire così, vedi? Non c'è posti. Però sei salito sul treno. Ho salito qui sopra, la verità. Comunque guarda quell'amico mio sta dormendo proprio, guarda. A terra. Bello. In coma c'è se non va. Non si vede niente. È pesciato quella? È messa pure la coperta. La coperta si è messa. Senti, ma sono calda le coperte. La verità io sono buone. E altri viaggi che sono fatti? Tanti, tanti. Ma questo è il migliore, no? Il peggioso. Non c'erano le coperte l'altra volta? No, non erano date oggi. E poi è tutto libero qui, in fondo.